Ciao a tutti ragazzi del Punto Zero e questo è un nuovo video. Oggi farò vedere il presever già montato. Infatti questo è l'ultimo video che riguarderà il Natale, infatti dal prossimo video in poi parleremo di vero e primo modellismo, sia navale che aereo. Quindi ci vediamo quando il presever sarà già montato. Eccoci tornati, come potete vedere abbiamo già finito il montaggio del nostro presever e presento tutti i particolari di cui abbiamo parlato e che abbiamo costituito negli scorsi video. Infatti qui c'è il cielo, o per lo più i cieli che abbiamo montato negli scorsi video, poi la montagna che l'ho ricoperto in alcune parti col sughero per prolungarlo e farlo arrivare fino a un certo punto, in modo che così potevamo mettere più case e anche più personaggi. Infatti anche da questo lato. Poi se andiamo più nel dettaglio possiamo vedere il lago, che all'interno del lago ho messo delle luci, per lo più all'esterno della vaschetta, in modo da dare quell'effetto diciamo di luciglio dell'acqua. Poi come potete vedere questi tre stuzzicadenti tengono una rete fatta con la rete del sacco delle patate, che fa diciamo una similitudine riguardante la rete da pesca. Poi c'è la cascata, che è proprio quell'acqua che scorre perché abbiamo montato questo tubo, che è uno di quei tubi che si può trovare anche all'esterno dei palazzi. Io l'ho comprato da un negozio di idraulica e all'interno c'è un motorino che fa praticamente circolare l'acqua all'interno di tutta la montagna. Poi c'è ovviamente la grotta, in questo momento ovviamente il suo bambino non c'è perché lo andremo a mettere il 24 dicembre, proprio a mezzanotte quando nascerà. Come potete vedere questa cosa bianca che abbiamo messo è una polverina, si può trovare anche nei cinesi, è simile alla neve, per dare proprio quell'effetto. Quindi ragazzi per costruire tutto vi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace, in descrizione il mio profilo Instagram e Facebook. Ciao!